Ciao a tutti, siamo i ragazzi del Google Blog e siamo qui con Magdalena Gadaleta, docente in aiuto di Egnola Odituga, vincitrice del primo premio per il concorso Linguamadre. Come ci può descrivere l'esperienza insieme a Egnola e ai suoi compagni e come avvenza l'autoratura dal momento? Allora, siamo venuti a conoscenza di questa bellissima opportunità in maniera anche assolutamente casuale inizialmente, abbiamo subito raccolto l'opportunità, è diventata per noi una sfida vera e propria e comunque un impegno a tutti gli effetti perché questa cosa poi andasse bene in porto fino alla fine. Ci siamo riusciti con tutte le ragazze, quindi Egnola è stata forte, resistente, perché nonostante il dolore provato durante l'emersione di tutta la sua storia è riuscita ad andare fino in fondo. Le altre, insomma, un po' erano blindate da questa situazione di dolore, mentre Egnola è riuscita ad andare fino in fondo nonostante la sofferenza provata. Quindi io e la mia collega abbiamo praticamente aiutato Egnola a tirar fuori la sua storia, abbiamo fatto un lavoro maieutico molto bello, quindi si è creato proprio un rapporto duale, affettivo, oltre che di puro insegnamento e apprendimento in quel momento, è riuscita a donarci completamente tutta la sua storia. L'abbiamo accolta, l'abbiamo raccolta e l'abbiamo aiutata a trasformarla poi in parole, in prodotto letterario. Egnola non si aspettava minimamente il riconoscimento del primo premio e quindi le lascio immaginare, quando è venuta a conoscenza di questo, la sua felicità. In qualche modo una compensazione, una prima compensazione a quello che è stata la sua precedente esperienza molto flusso. Va bene. Quindi ringraziamo questa opportunità. Grazie. Grazie mille.